la nuova manifestazione tu che cosa ne pensi di manifestazioni di questo tipo? penso che finalmente era ora era ora che manifestazioni di questo tipo avvenissero anche perché io faccio parte di un gruppo penso che alcuni di voi mi avranno già riconosciuto comunque sono Carlo Marrale ciao a tutti del Mattia Bazzar e personalmente è una vita che nel corso delle varie interviste mi trovo a sostenere questa teoria come si può notare oggi finalmente si sta concretizzando e poi dovrei metterli come faccio a ridurre ciò che si faccia? Milena come già l'hai fatta la coda? l'hai fatta tu prendi tre pelli dietro che ha le ragazze non avevano elastici le furcine non avevano tu hai trovato lo scotch dopo il giorno di diritto non è da male le luci le luci un po' di luci luci ragazzi mi hai fatto le prove le luci no no non c'è niente che da poco niente niente tranquillo tranquillo solo sarebbe giusto che anche in Italia ecco queste manifestazioni fossero più più seguite più più incoraggiate proprio perché per permettere alla gente di ragazzi appunto di togliersi dalla strada di suonare del buon rock e così che ne so un grosso augurio che faccio un po' a tutti a collaboratrice di parco per favore comincia già con delle storie strane siete pronti? scambolo in a scambolo in a Grazie per la visione! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione